Se c'è un settore in cui la cultura dello scarto fa vedere con evidenza le sue dolorose conseguenze, è proprio quello sanitario. Con queste parole il Pontefice ha colto in Vaticano i partecipanti all'incontro promosso dalla Commissione Carità e Salute della Conferenza Episcopale Italiana. Nel discorso, Papa Francesco ha messo a fuoco luci e ombre che hanno caratterizzato gli ultimi anni, segnati da forti cambiamenti sociali e culturali. Così, se da una parte la ricerca scientifica è andata avanti, non si può non riconoscere che non sempre lo stesso impegno è stato assicurato per le malattie rare e neglette. Tanti sono i volontari che con generosità e competenza si adoperano per alleviare e umanizzare le lunghe e difficili giornate di tanti malati e anziani soli, ma è vero anche che non a tutti è assicurato l'accesso alle cure e che tante sono le forme di solitudine e abbandono di cui soffrono i malati, membra preziose per la Chiesa. Occorre essere vigilanti, soprattutto quando i pazienti sono anziani, con una salute fortemente compromessa, se sono affetti da patologie gravi e onerose per la loro cura o sono particolarmente difficili, come i malati psichiatrici. Il modello aziendale in ambito sanitario si è adottato in modo indiscriminato, invece di ottimizzare le risorse disponibili, rischia di produrre scarti umani. Ottimizzare le risorse significa utilizzare in modo etico e solidale e non penalizzare i più fragili. Al primo posto c'è l'inviolabile dignità di ogni persona umana dal momento del suo concepimento fino al suo ultimo respiro.